La sicurezza urbana è una questione non solo di cui si dibatte, è vita di tutti i giorni. Anche in città come Trento, che certo sono sempre i primi posti nelle statistiche nazionali, però delle difficoltà le vediamo, è molto importante avere un approccio che non segua solo le emozioni o il fatto dell'ultimo secondo, ma che si concentri e parta dai dati. Allora lavorare comune FBK partendo dai dati è molto importante per prevedere e per intervenire dove ci sono delle situazioni, dove ci sono dei crimini, dei reati, delle situazioni su cui intervenire. Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di un approccio però europeo etico, perché abbiamo delle nuove tecnologie che possono fare molto per la sicurezza, dobbiamo però anche tutelare le libertà personali. Allora questi progetti comune FBK sono davvero molto importanti ed è la conferma una volta e per tutte del grande valore per la città di Trento di avere una fondazione di ricerca come FBK.